Ha sollevato polemiche un post su Facebook della giornalista selvaggia Lucarelli che ha posto dubbi sulla veridicità degli appelli di una mamma della provincia di Lecce che da sette anni circa vive negli Stati Uniti per curare sua figlia affetta da una grave malattia. Forse, attacca Lucarelli nel post, sarebbe ora che la ASL Puglia desse delle spiegazioni sull'opaca vicenda. Davvero la signora ha bisogno di rimanere in America con due figli costando alla sanità milioni e milioni di euro? Scrive Lucarelli ponendo molti interrogativi. La replica è arrivata con una nota congiunta da parte dell'assessore regionale della sanità Rocco Palese, del direttore del dipartimento a ramo Vito Montanaro, del direttore generale della ASL Lecce Stefano Rossi e del coordinatore del centro regionale tra pianti Loreto Gesualdo. Il sistema regionale pugliese nel 2014 dichiarano si trova ad affrontare il caso di una bambina di sette anni affetta dalla sindrome di Berdon, una malattia genetica rarissima che compromette la funzionalità dell'apparato gastrointestinale. La complessità del caso richiedeva l'identificazione di un centro altamente specializzato nel campo trapianto multiviscerale e tra questi il Children Hospital dell'Università di Pittsburgh risultava essere un centro di riferimento mondiale per questo genere di interventi, ancora più delicato nel caso specifico trattandosi di una bambina. All'epoca i trapianti di questo tipo in Italia proseguono, non venivano eseguiti e comunque la complessità del caso non era gestibile nel nostro paese, ma solo in pochissimi centri al mondo. Pertanto il sistema sanitario pugliese, previo parere tecnico, favorevole espresso dal centro nazionale trapianti, ha autorizzato la bambina a essere iscritta in lista d'attesa per questo trapianto e ha adottato tutte le scelte che hanno consentito alla stessa di essere operata, curata e assistita e quindi di sopravvivere sino ad oggi contro ogni previsione.